Siamo a Roseto degli Abruzzi in Piazza della Repubblica, qui al municipio, per presentare la manifestazione che rientra nel calendario degli eventi invernali della città di Roseto. Qui con noi c'è l'assessore al turismo, il dottor Antonio Porrini, che ci darà maggiori dettagli. Questa manifestazione è agli inizi dell'anno, iniziamo con i 150 anni di Roseto, con questa bella manifestazione che ha portato tanti giovani qui, come possiamo vedere, sempre pieno. Un mese è stato sempre pieno e quindi questo è piaciuto molto alla città di Roseto. Diciamo che io sono contento di questo evento, che è riuscitissimo e grazie appunto a tutti i cittadini che hanno onorato questa bella pista. Questo è stato fatto anche in ricordo degli aquilani che stavano qui a Roseto, che ci sono ancora, per dargli un po' anche di clima aquilano. Grazie a tutti.